Rientra l'allarme sul caso sospetto di coronavirus. Sono infatti negativi gli esiti dei controlli fatti sull'uomo di Olbia ricoverato da ieri sere al reparto di malattie infettive di Nuoro. Dopo gli esami condotti attraverso i tamponi si è potuto appurare che i due sintomi mostrati dall'uomo, febbre alte e forte tosse, sono da imputare a un semplice virus influenzale di tipo B, a decretarlo una volta per tutte i laboratori di Cagliari. Sospiro di sollievo quindi per il paziente e non solo, considerata la psicosi che sta attanagliando il nostro paese e tutto il mondo nelle ultime settimane. L'uomo e sua moglie, al rientro da un viaggio su una nave crociera, erano stati subito considerati come casi sospetti. Immediate le misure di prevenzione, sottoposti al monitoraggio dell'unità di crisi locale del Nord Sardegna, istituita dall'assessorato regionale della sanità, la coppia era finita in isolamento nel proprio appartamento. Tenuti sotto stretta osservanza, come previsto dal protocollo sanitario, la situazione pareva sotto controllo quando ieri sera si è verificato l'improvviso peggioramento delle condizioni di salute del marito, immediatamente trasferito a Nuoro in una stanza di isolamento a pressione negativa. Un'ora fa l'annuncio che allontana ogni possibilità del coronavirus, mentre intanto la donna rimane nella casa di Olbia sotto costante osservazione.